è un nuovo colore disponibile da oggi per l'epos lo zainone di pentagon trovate tutte le caratteristiche di questo zaino da 40 litri su backpack.it dove c'è già la mia recensione e il colore di cui parliamo è il ral 7013 qui di fianco ve l'ho messo per avere un confronto perché i colori sono effettivamente simili ma c'è il loro verde oliva un colore che già era presente è un po più chiaro mentre questo è proprio il verde militare a me piace moltissimo fa anche molto bushcraft fa anche molto natura ed è davvero un bello zaino vi invito a scoprirlo vi lascio il link in descrizione perché ha tanto da dire ma anche di più da dare e i post di pentagon su backpack.it e chiaramente sono disponibili anche tutti gli altri colori dell'epos li state vedendo passare tutti ovviamente sul miglior sito che conoscete